Grazie a tutti! Questo tè è il tè che si bevono tutti negli Stati Uniti. Pensate che lo bevono talmente tanto che a volte lo sostituiscono l'acqua. Qui si credo siano delle tisane antiossidanti. La detox è buona. Queste sono marche riconosciute. Vedete anche i prezzi sotto. Grazie. Grazie. E questo è il tè in polvere. È la soluzione per preparare il tè. Eccolo qui, il chai latte. Lo fanno anche da Starbucks. Credo che sia tra i più venduti. Io l'ho assaggiato e non è piaciuto. Però non è proprio male, male, male. E la mia amica beve solo questo chai latte di Starbucks. Spero di avervi fatto vedere abbastanza. Un bacione. A presto, ciao! Ciao!